Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale la dedichiamo oggi ai disagi creati dalle gelate delle ultime ore nelle campagne. Il sindaco di Niscemi, Francesco Larosa, ha chiesto alla regione lo stato di calamità naturale per i danni causati dall'ondata di maltempo, danni soprattutto alle piantagioni di carciofo e di ortaggi coltivati a pieno campo. Stato di calamità naturale per i danni causati dal gelo all'agricoltura lo ha chiesto al governo regionale la giunta comunale di Niscemi retta dal sindaco Francesco Larosa. L'ondata di freddo polare che negli ultimi giorni si è battuta tra l'altro nell'Interland e nel territorio niscemese ha causato danni irreversibili all'agricoltura ed in particolar modo alle piantagioni di carciofo e di ortaggi coltivati a pieno campo. Le gelate degli ultimi giorni hanno infatti compromesso e danneggiato le produzioni di carciofo ed orticole. Non solo abbiamo chiesto noi come Niscemi ma abbiamo invitato tutti i territori limiti a fare la stessa cosa, cosa che già hanno fatto. Proprio stamattina mi sono sentito con il sindaco di Vittoria che sta convocando per il giorno lenti un forum per quanto riguarda i sindaci del territorio che tutti assieme cercheremo di portare avanti. Qualcuno ancora pensa che questo territorio va lasciato in mano a nessuno? Si sta sbagliando. Questa volta non ci fermeremo, abbiamo l'esigenza di portare avanti queste richieste e sono convinto che ci ascolteranno. Se fossi stato nella persona della deputazione o di chi in questo momento amministra la nostra regione Sicilia mi sarei premurato già a predisporla io la richiesta di stato di calamità naturale. L'agricoltura, rimarca il sindaco, costituisce per le famiglie della città la principale risorsa economica e sono tante le aziende agricole produttrici di carciofi e di prodotti orticoli coltivati a pieno campo che negli ultimi giorni continuano a segnalare ingenti danni alle produzioni. La giunta comunale ha adottato tutti gli atti per i necessari supporti agli agricoltori danneggiati. Quello che è successo è straordinario, siamo rimasti senza nessuna cultura, tutta quella a pieno campo è stata perduta. Anche il sottoserro è stato compromesso e si parla di una calamità straordinaria, questo non si vedeva dagli anni 60. Bisogna correre ai ripari immediatamente, se no qua c'è il rischio della desertificazione perché andremo via dalla Sicilia. Il sindaco lancia un invito ai produttori di carciofo e ai titolari di aziende agricole della città che hanno subito danni alle produzioni. Immediatamente prendete i moduli, andate a fare le vostre richieste alla condotta agraria perché poi bisogna valutare. Più siamo meglio è. Funziona in questo modo, non c'è alternativa. Dopodiché la politica dovrà fare il suo corso. Torniamo a Gela. Due coniugi avevano immagazzinato illegitamente 100 bombole di gas da cucina in un loro negozio in Piazza Calvario e in un antiguo edificio comunale in disuso. Sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri per detenzione e o essa denuncia di materiali esplodenti che costituivano pericolo per l'incolumità pubblica. La quantità massima di gas in bombole consentito dalla legge è di 75 chili. La titolare dell'esercizio di 50 anni e il marito di 68 che vi lavorava come dipendente ne avrebbero immagazzinato invece 800 chili. Secondo i militari dell'arma le bombole erano anche lasciate senza custodia e non erano rispettati gli obblighi di corretta tenuta per la prevenzione degli incendi. Tutto il materiale è stato posto in sicurezza con il supporto dei vigili del fuoco e affidato ad una ditta specializzata. Si prepara l'ennesima battaglia in tema dei liberi consorsi dopo la pubblicazione da parte della regione siciliana del decreto che stabilisce i criteri per la ponderazione del voto dei consiglieri dei comuni interessanti dal turno elettorale comunale della scorsa primavera. A rilevare l'inghippo è il comitato per lo sviluppo dell'area gelese che parla di stravolzone da parte del governo regionale. Abbiamo segnalato già in passato che il voto ponderato non garantiva ai comuni andati al voto nel 2016 pari dignità con tutti gli altri comuni. Adesso cercano di metterci una pezza con il decreto 318 dell'assessore regionale alle autonomie locali e questo decreto nuovamente diventa incostituzionale perché praticamente fa risalire al voto dei consiglieri comunali che dovrebbe essere segreto. In pratica quei comuni andati al voto nel 2016 nella scheda che avrà lo stesso colore degli altri comuni ci sarà scritta la dicitura bis e quindi è facilmente rintracciabile. Al fianco del comitato per lo sviluppo dell'area gelese e a quello dei comuni di Niscemi e Piazza Almerina interverrà anche il noto avvocato, docente universitario ed ex assessore regionale Gaetano Armao. L'avvocato Armao ha fatto una chiara dichiarazione, ha detto intanto che a giorni procederà a depositare a tarra il ricorso per l'annullamento degli atti amministrativi che ormai, leggo testuali parole, che ormai celebrano un procedimento illegittimo. Ci sono delle chiare responsabilità e coloro che le hanno determinate dovranno spiegare ai cittadini di Gela, Piazza Almerina, Niscemi e non solo come possa ignorarsi l'esito dei partecipati in referendum popolari. Ecco, in merito proprio alle elezioni, ma quando si svolgeranno? Beh, le elezioni adesso con questo nuovo problema di questo appena sollevato dovranno nuovamente rinviarle, anche se oggi la Giunta si rinuniva per indire le elezioni. possiamo già anticipare che verranno nuovamente rinviate e quindi non sapremo quando si faranno queste elezioni, è una riforma che ha delle pecche incredibili, sono stati fatti otto passaggi legislativi e ancora oggi si attende al passaggio alla città metropolitana di Catania che per la Regione, vogliamo dirlo a tutti, è un passaggio obbligatorio e non più posticipabile nel tempo. E' una telenovela vera e propria? E' una brutta telenovela, ci sono le telenovela a lieto fine, ci sono poi le telenovela che sono brutte anche solamente a guardarle, questa è una di quelle che è veramente sgradevole. La Guardia Costiera di Gela, gli ordini del Comandante Pietro Carosia, ha sequestrato 38 kg di prodotti ittici ed elevato sanzioni amministrative per 3.000 euro. L'attività di vigilanza pesca denominata countdown è stata eseguita sia a terra che in mare assieme al personale del servizio veterinario di Gela ed ha avuto la finalità di garantire il rispetto delle norme che disciplinano la filiera della pesca dalla cattura alla vendita al fine di tutelare il consumatore finale. Il personale militare ha effettuato controlli anche presso il mercato rionale e per le strade al fine di verificare la presenza di eventuali venditori di prodotti ittici. Proprio nel mercato settimanale di Contrada Marchitello è stata accertata la presenza di un venditore ambulante che deteneva prodotti ittici privi di tracciabilità. I militari hanno elevato una multa di 1.500 euro e sequestrato 12 kg di telline che, sottoposte a visita sanitaria, sono risultate non idonee al consumo umano. Altri controlli verranno effettuati durante l'anno per tutelare il consumatore. Caltanissetta diventa polo sanitario d'eccellenza assieme a Palermo, Catania e Messina. Questa la novità che arriva con la rimodulazione della rete ospedaliera. Dopo anni di attesa, dunque, gli ospedali riuniti, Sant'Elia e Maddalena Raimonti, vengono riconosciuti come hub, ovvero come struttura sanitaria di primo livello, altamente specializzata, che oltre le unità operative di base, prevederà le unità operative complesse, quali chirurgia plastica, chirurgia toracica, che il potenziamento di neurochirurgia e chirurgia vascolare, solo per citarne alcune. L'ospedale Vittorio Emanuele di Gela diventerà invece SPOC, assieme all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, e l'ospedale riunito di Sciacca e Ribera. Sempre secondo la rimodulazione della rete ospedaliera, Mazzarino è stato riconosciuto come ospedale di aria disagiata, assieme a quello di Mussomeli, mentre Niscemi è stato indicato come ospedale in zona a rischio ambientale. Abbiamo lavorato molto per ottenere questo riconoscimento per quanto riguarda l'ospedale di Caltanissetta, quale hub, quindi quale ospedale di riferimento, per un'area molto più vasta rispetto all'area provinciale. E dico che abbiamo avuto questa grande soddisfazione di vederlo riconosciuto. Ovviamente le componenti che entrano in campo per il riconoscimento di un hub regionale sono diverse. La prima componente è la storia di questo ospedale, la seconda componente è la localizzazione dell'ospedale, che è una localizzazione estremamente centrale per la Sicilia, quindi facilmente accessibile da tutte le aree del centro Sicilia. E poi vi sono delle componenti che sono componenti che derivano dall'attività che è stata posta in essere da questa direzione strategica. Poi vi è una quarta componente, che è una componente estremamente importante, è quella azione che abbiamo fatto a livello degli organi centrali, dove abbiamo trovato il massimo supporto da parte della Presidenza della Regione e dell'assessore, che hanno recepito le nostre indicazioni tecniche e le hanno tradotte in un atto politico che sicuramente gratificherà l'intera provincia. Io andrò a vedere qual è l'organigramma che ci daranno, però penso che non sarà modificato quell'organigramma che ci avevano proposto, dove noi vediamo e troviamo la neurologia a Gela struttura complessa, l'otorino a Gela struttura complessa, l'oculistica a Gela struttura complessa, e poi il mantenimento dell'utin, che è anche questa una disciplina che è al di là del territorio servito esclusivamente da Gela, perché servirà un territorio ben più vasto. Sono aperte le iscrizioni per l'anno 2017 alla pubblica assistenza Procivis Protezione Civile di Gela. Le elezioni cominceranno mercoledì 1 febbraio alle 19.30 e si terranno presso la sala riunioni della Procivis. Per iscrizioni ed ulteriori informazioni è possibile recarsi dal 16 al 31 gennaio prossimi presso la sede operativa della Procivis in via Ossidiana 23, oppure chiamando la segreteria allo 0933 938312. Assemblea precongressuale della Federazione Nazionale Pensionati CISL di Agrigento, Caltanissetto ed Enna si è svolta oggi nella sala riunioni della parrocchia San Giacomo di Gela. All'ordine del giorno, la situazione politico-sindacale, la costituzione del coordinamento zonale dei comuni di Gela, Niscemi, Mazzarino e Butera e l'elezione dei delegati al congresso territoriale di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. Sentiamo ai nostri microfoni gli intervenuti. Il 22 di febbraio verrà celebrato il congresso della FNP CISL di Agrigento, Caltanissetta e Enna dove verranno eletti gli organismi statutari, verrà eletto il direttivo, la nuova segreteria e il nuovo segretario generale. Quindi noi siamo una federazione con la massima partecipazione di democrazia. Ogni quattro anni ci presentiamo i nostri iscritti perché noi scadiamo dopo quattro anni e quindi chiediamo di nuovo di fare un'analisi attenta. Oggi si farà un'analisi attenta di tutte le attività che sono state svolte nella sede zonale di Gela. Gela è una sede zonale che attenziona molto i problemi dei pensionati e non solo, i problemi delle fasce più debole, i problemi dei giovani, i problemi dei minori, i problemi degli extracomunitari. Quindi noi ci presentiamo oggi non solo per eleggere i delegati al congresso ma per fare un bilancio e un'analisi delle attività che sono state svolte in questo territorio. Dopo dieci anni finalmente ci si è riunita attorno a un tavolo, è stato siglato un'intesa dove include sia i giovani sia gli anziani e questo è estremamente positivo perché da qualche anno a questa parte si stava cercando di mettere una generazione contro gli altri non ricordandosi che i giovani non sono altro che i nostri nipoti e i nostri figli. E quindi oggi dopo che affronteremo un po' e analizzeremo i punti forti di questa straordinaria intesa poi procederemo anche all'elezione dei delegati perché la CISL e la FNP all'interno della CISL rinnova i suoi organismi. Dopo quattro anni cercheremo di portare avanti tutte le problematiche dei pensionati e di difendere la loro tutela. Venerdì 13 gennaio appuntamento con la notte dei licei classici alle 17.30 all'Eschilo di Gela è previsto un incontro con i genitori e gli alunni delle terze medie e subito dopo ci saranno dei momenti musicali, teatrali e di intrattenimento a cura dei liceali. Dalle 21 a mezzanotte musica da discoteca. Fai la cosa giusta, differenzia i rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi, mercoledì, dalle 22 alle 5, depositare davanti alla propria abitazione gli imballaggi in plastica e metallo multimateriale nell'apposito sacco trasparente. Cosa conferire? Plastica, piatti e bicchieri monouso in plastica, bottiglie di acqua e bibite, flaconi, taniche, dispenser e tubetti vuoti per detergenti, detersivi, shampoo e dentifricio. Prodotti per l'igiene della persona e della casa. Baschette, contenitori, buste e sacchetti per alimenti. Imballaggi in polistirolo, reggette e stringipacchi, blister, reti e cassette per frutta e verdura. Contenitori con sigle PET, PVC, PPP, PS. Cosa conferire metalli? Lattine per bevande, scatole e lattine in banda stagnata, contenitori in metallo. Pelati, tonno, mais, cibo per animali. Contenitori di prodotti per l'igiene personale. Tappi, coperchi e stampi per dolci in metallo. Carta in alluminio di uso domestico pulita. Contenitori in alluminio per alimenti puliti. Bombolette spray vuote, non pericolose. Coperchi in alluminio degli yogurt, lattine con il simbolo AL. Come conferire il multimateriale? Gli imballaggi in plastica, assieme agli imballaggi in metallo, alluminio, banda stagnata e metalli, vanno conferiti puliti utilizzando l'apposito sacco trasparente. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Rieccoci, seconda parte del telegiornale. Omini, mezziomini, uminicchie, qua, qua, qua. Il titolo di un libro scritto da Antonio Scandrello e che verrà presentato il prossimo 13 gennaio alle 17 nei locali della Biblioteca Comunale in Via Butera a Gela. Relazionerà via Giopardo. Alla presentazione interverranno tra gli altri Angelo Fasulo, ex sindaco di Gela, Patrizia Zanone, l'assessore comunale Francesco Salinitro e il sindaco Domenico Messinese. Ed è prevista per venerdì 20 gennaio alle 17 nella sala conferenze del liceo scientifico Elio Vittorini di Gela la presentazione del libro di Sebastiano Tusa Primo Mediterraneo. L'iniziativa è della libreria Mondadori in collaborazione con l'Istituto Scolastico diretto da Angela Tuccio. Dialogherà con l'autore Lella Oresti. Introdurrà e modererà i lavori Lina Orlando. E' previsto l'intervento del pittore Giovanni Iudice. Anno nuovo e nuovi obiettivi da raggiungere per l'assessorato comunale alla cultura di Gela. Sentiamo quali sono ai nostri microfoni l'assessore Francesco Salinitro. Le azioni sono diverse, sono parecchie. Tra queste in primo luogo c'è la formazione dei gruppi di lavoro che abbiamo già predisposto alla fine dell'anno per consentire di costituire l'ufficio di piano per il recepimento di prescrizioni VAS all'interno del PRG e per preimpostare quella che è la strategia di pianificazione del futuro della città. Anche alla luce della chiusura dell'Eni e degli sconvolgimenti territoriali che sicuramente questo porterà. I gruppi di lavoro che saranno formati sono quattro sostanzialmente e di questi quattro sono il CTR sistema informativo territoriale che già è stato implementato parecchio ma sarà sviluppato ulteriormente. Il gruppo di lavoro per l'analisi del centro storico per il completamento dell'analisi del centro storico perché una parte del lavoro era stato fatto parecchi anni fa e il gruppo per l'inventariazione del patrimonio immobiliare pubblico e l'insieme di queste cose saranno coordinate in modo da mettere insieme tutti questi quattro elementi che convluiranno nello stesso progetto complessivo di città. C'è un bando che stiamo preparando in collaborazione di tre settori il settore urbanistica, sviluppo economico e lavori pubblici per proporre alla città un piano per la riqualificazione delle facciate e la ristrutturazione degli edifici vaticenti. Sarà diviso in due parti una parte di tipo estetico e di decoro l'altra parte invece di risparmio energetico. Qui stiamo attestando dei fondi importanti perché costituiscano vero incentivo e all'interno di queste sviluppare un'azione diretta, un piano colore che riguarderà la parte fronte mare ma anche le vie più importanti della città che riguardano via Venezia, via Crispi, via Generale Cascino e così via. Saranno individuate esattamente in questo modo. Continuano gli appuntamenti inseriti nell'83 stagione concertistica gelese promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra. Domenica 15 gennaio alle 19 nei locali del Palazzo della Cultura Principessa Pignatelli e Roviano si terrà il concerto pianistico a quattro mani con Carlo Gelo Lupo e Giuseppe Francolino. Le fredde temperature che stanno caratterizzando questo inizio dell'anno e le nevicate dello scorso weekend hanno creato qualche disagio soprattutto a chi non ha un posto dove andare o chi ha delle difficoltà economiche. In città prosegue infatti proprio in questi giorni particolarmente freddi l'attività di solidarietà svolta nella parrocchia di San Pio X e nella Casa di Gerico lì dove sarebbero sempre più numerosi coloro i quali cercano un luogo e un pasto caldo. Iniziative di solidarietà che vengono portate avanti grazie alla collaborazione e generosità dei volontari ma anche grazie all'aiuto delle suore che si occupano di migranti e delle famiglie più bisognose che vivono nel quartiere Provvidenza. In questi giorni proprio per il freddo che c'è ce ne accorgiamo tutti al posto di venire alle 12 per venire a pranzare e ne vengono di più vengono già alle 10 alle 9 e mezzo perché noi li facciamo trovare caldo l'ambiente e provvediamo con vestiti con coperte soprattutto cerchiamo anche con le suore che sono veramente una benedizione di Dio in questo momento per questo intervento di queste persone che aspettano di poter entrare a Pian del Lago hanno necessità di coperte perché vivono sotto una tenda sotto i cartoni immaginate che freddo abbiamo trovato persone quasi congelate raffreddate e quindi un intervento di medicina di primo intervento meno male che la sora è anche infermiera e capisce parlano la loro stessa lingua alcune delle tre suore e quindi si sta cercando di venire incontro ma anche ci accorgiamo in barrocchia che per il momento non vengono i fedeli ma i poveri vengono e se ne devono andare con le mani in piene anche se i fedeli in questo periodo aspettano il caldo e speriamo che quando c'è il caldo verranno perché poi c'è il periodo del mare noi ci occupiamo in modo particolare dei migranti dei profughi che incontriamo per strada oppure anche sotto a Pian del Lago poi dobbiamo essere ponte per integrare cercare un'integrazione fra la gente della città e poi abbiamo un'attenzione particolare anche i poveri i nostri poveri italiani non solo gli stranieri dando un servizio visitando le famiglie più necessitate che hanno più necessità Pur di fare musica si tratta del concerto di Paolo Belli che si trarà domani alle 21 al Teatro Comunale Eschilo di Gela i bietti hanno un costo di 12 euro il botteghino è aperto ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20 ci sono anche due recapiti telefonici 0933 911892 e 345 5880 580 in proiezione al Cineteatro Antitoto di Macchitella Gela alle 17.30 il cartone animato Rock Dog alle 19.30 e alle 21.30 invece sarà proiettato il film Non c'è più religione con la pagina dedicata allo spettacolo noi chiudiamo l'informazione di oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni Grazie a tutti 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 Grazie a tutti